Hanno festeggiato i 30 anni di vita l'associazione Banda Cittadina Tommaso Traetta e l'associazione musicale Crazy Band di Bitonto. Erediti di una delle storiche bande bitontine, le due associazioni incarano da anni la passione musicale di tanti giovani, che attraverso l'opera del maestro Simone Mezzapesa possono avvicinarsi alla musica ed esprimere il proprio talento sia nella musica da banda che nella musica leggera, e da ultimo con la creazione di una marching band chiamata Free Band. L'associazione infatti, oltre alla banda che si esibisce nelle feste di paese, è una big band che miede successi a livello internazionale, potendo vantare nel suo palmarès esibizioni sulla Rai, torne con i platter e performance rinomati locali del Nord Italia. Da ultimo la band sta accompagnando i ballerini che stanno partecipando al campionato internazionale di danze latino-americane. L'evento è stato anche l'occasione per inaugurare la nuova sede in Via Amedeo, soddisfazione e orgoglio nelle parole del maestro Mezzapesa. Ho deciso insieme ai miei collaboratori il prossimo anno di scrivere un libro, un libro correlato da un CD o un DVD dove si racconta tutta la storia, i vari concerti, gli aneddoti che riguardano queste due associazioni capitanate da me. Noi già il 14 di dicembre stiamo a Napoli con un gran concerto per 4.000 ballerini di tutto il mondo, accompagnati dalla nostra grande orchestra, quindi è un punto di riferimento che è iniziato a marzo 2014 a Dugento e stiamo portando in giro per tutta l'Italia. Il mio motto è quello di studiare, 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 perché solo così si fa bene.